Avviate le procedure per l'accessione della FIMER, l'azienda di Terra Nuova a Bracciolini specializzata nella produzione di inverter attualmente in amministrazione straordinaria. A comunicarlo è la stessa azienda tramite una nota ufficiale. A seguito della pubblicazione dell'invito a presentare manifestazioni di interesse per l'accessione, si legge, i commissari straordinari hanno ricevuto un forte e significativo interessamento da parte di primarie società che operano sia in Italia che all'estero. I potenziali investitori valutati positivamente sono stati ammessi all'analisi due diligence della società mediante eccesso ad un'apposita virtual data room in cui sono contenute tutte le informazioni utili per la valutazione del complesso aziendale. Lo scorso 6 settembre il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha autorizzato l'avvio della procedura di vendita del complesso aziendale FIMER inviando a tutti i potenziali investitori la lettera di processo contenente termini e modalità di presentazione delle offerte vincolanti che dovranno prevenire entro e non oltre le 15 del 15 ottobre 2024. Si procederà, conclude la nota, nel rispetto del bando di gara all'aggiudicazione del compendio aziendale FIMER. Al momento nello stabilimento valdarnese lavorano circa 260 dipendenti e il mantenimento dei livelli occupazionali spicca come uno dei presupposti centrali per l'ammissione delle imprese interessate alla procedura.